Ricordiamo ancora che oggi è solo una giornata, è una giornata di notte che ci ha visto insieme per cui rilanciamo ancora tutti insieme questo appuntamento per non lasciare insieme, per non lasciare sole tutte queste persone che sono senza permesso venerdì pomeriggio alle ore 15 davanti al tribunale per chiedere a Gramozzo un diritto che spetta a tutti, a chi ha denunciato i propri truffatori, venerdì a ore 15 davanti al tribunale tutti insieme per dire ancora no espulsioni, no espulsioni, no espulsioni, no espulsioni. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!